Aggiornatemi. Kaleidoskop ha trovato un'ambulanza in Ocean Boulevard con lo stesso logo delle divise che erano a casa di lì. Kallen e Sam saranno lì a momenti. Abbiamo anche identificato il secondo sospettato. È entrato nel paese dalla Corea del Sud, con il passaporto tedesco di Herbert Dieter. Ma i dossier dei casi di Park dicono che si tratta di Heavod Dervis, un dinamitardo di Hamas. Stiamo per chiudere il cerchio, signore. Anche noi, la USS Nebraska è stata autorizzata ad attaccare il sito missilistico. Possiamo aprire le comunicazioni? Sì, subito. La situazione è assolutamente critica. La USS Nebraska è pronta a fare fuoco. Voi a che punto siete? Siamo vicini all'ambulanza, aspettiamo di poter intervenire. Il tempo sta per scadere. Ci sono troppi civili. Se lui ci vede arrivare e decide di anticipare l'esplosione, può fare una strage. Ha visto soltanto me e Kenzie. Vicks, ti dovrai sacrificare per la squadra. Perché ho la sensazione che soffrirò? No, no. Tutto bene. Qualcuno lo aiuti. Ehi, mi dà una mano. Quell'uomo è ferito. Spegni il motore. Forza. Forza. Agente Callen. Agente Hanna. Che succede? Abbiamo trovato l'obiettivo e la bomba. Signore, revochi pure l'attacco. Non c'è nessuna minaccia. È un falso allarme. Non c'è nessun missile. Signore. Segretario, mi sente? La prossima volta me lo dica un po' prima. Sì, signore.